Ciao ragazzi, io sono Bersi22, ho una fic nel culo, e adesso abbiamo un grande chiuso di combattere da WC, guarda che scasso, sotto lui, attenzione, 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 attenzione. Io adesso gioco queste unione, fede saluta, fede, 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 Eeeh Lascia, lascia, lascia Attenzione Fede Attenzione, dopo lui, calcia Attenzione Oddio, vogliono come dei mongoloidi Attenzione 1-0 Metto un tapp in culo Io, si Anche il tapp in culo La mia 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 Ma che Ma che Cazzo, già arrivavo con due, ma ti spito un crano in ordine Cazzo come un po' che ci sta Lo giuro pure te, ritardate mentale C'è vedete che sta parlando solo per noi, che anche per il team avversario Cioè, parla per tutti C'è un po' di mano, ma punta la cazzo, attenzione La Black Hand, va, 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 va Mori come un coglione, sì, proprio lui Varios, attenzione, Ethan, Black Hand Moro Mario, Moro Ethan Non lo do io Mentre le favicei con le punte Non lo do, non lo do No, dai, sei zitto, berserker, dai fastidio Soprattutto per dare un piccazzo, come sempre Si sente una benavata, vichia, non si sente, che cazzo Senti, sentiamo tua mamma che gode mentre lo fa con suo fratello Senti, sentiamo tua mamma che gode proprio Ah Senti Mario Ma vaffan... Vado anche a piccolo... Sì, vado questo Oh Ehi, quanto è un cazzo No, ho 20 colpi Cazzo, anche il telefono che due colpi, eh Faccio rompere dal telefono che esodi Ma non dico un cazzo Senti, cazzo Non tre Senti Senti Lee Proprio lui Non farai ancora un po' Per da destra Attenzione Valos cazzo la bomba guarda questo one tap con un colpo one tap con un colpo, proprio lui ma non è ancora ma non è ancora nooo mamma mia quanto è questo ma ragazzi mettete il caricatore a 1 lasciatelo a 1 verso che ti sfido, lasciatelo a 1 è scarso lo sapevo esatto non è vero non è vero non è vero non è vero è vero è vero ma non è vero è vero è vero è vero non è vero noooo mi scatta una mamma ci sono minchia ma devi romper il cazzo tutta sera in sta maniera non volete lo sposto? no se vogliamo lo banni magari sarebbero così pam 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 nooo gli ho lasciato più HP chi è? è lì Kizun è lì fra Kizun Kizun è proprio lui adesso che lì l'hai visto? oh mio Dio quando gode quando pilla uno gode non si sape ah attenzione l'ultimo rush porca troia nooo 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 oh mio Dio finchia le macro oh mio Dio proprio a lui oh mio Dio ma per se usi la rotellina scusa per suicciare? perchè è più veloce no io mi troppo meglio con ah mi troppo salutate ragazzi salutate il web salutate come diceva qua salutate il web forse che re venite a me che cazzo vi devo dire salutate la cazzo di feria dalle 12 in su ragazze dalle 12 in su ragazze dalle 12 è tanto figa fai dalle 10 eeeh